Due trombe marine nella provincia di Salerno. Nel primo pomeriggio si è sviluppata proprio nel porto di Salerno una imponente e paurosa tromba marina nella zona del porto commerciale. Il vortice ha creato qualche problema nello scalo commerciale di Salerno, dove alcuni container sono stati spostati e danneggiati dalla furia della tromba marina. Sono dovuti intervenire dei mezzi pesanti per la loro rimozione. La seconda tromba d'aria è nel Cilento nel pomeriggio di ieri lungo la costa di Santa Maria di Castellabate e per fortuna non ha toccato il litorale. Resta l'alertamento della protezione civile della regione Campania per le prossime ore dopo la tregua di questo pomeriggio.